ARIEL WINTER Ariel Winter, scatti sempre più sexy e shorts mozzafiato I suoi scatti incendiano le opinioni sui social media e fanno discutere, infiammando l'opinione pubblica tra fan sfegatati, che la porterebbero in trionfo sino in capo al mondo, e gli haters, che ci tengono a farle sapere che la reputano troppo grassa e troppo svestita. ARIEL WINTER contro i bodyshammers. Far vergognare una ragazza per i difetti del proprio corpo è un giochetto fin troppo facile. Se c'è riuscito un ragazzino con la leggendaria Kylie Jenner, che ha deciso di ingrandirsi le labbra dopo un commento fuori luogo, potete immaginare che cosa possono fare migliaia di persone che, ogni giorno, commentano le tue fotografie facendoti sapere in maniera del tutto non richiesta che non gradiscono le forme del tuo corpo. Ariel Winter, che interpreta Alex in Modern Family Sin dalla tenera età, ha cominciato il suo sviluppo sotto gli occhi di tutti, tra una stagione e l'altra della pluripremiata serie televisiva. Lei si piaceva, ma il suo corpo stava cambiando e si stava trasformando in quello di una donna. Una donna morbida e, per alcuni pareri critici, con addosso dei chili di poppo. Vinter ha cominciato a odiarsi, entrando in una spirale autodistruttiva di diete estreme ed esercizio fisico incostante. C'è voluto molto tempo, ma alla fine Ariel Winter ha capito che il problema non era il suo addome bentornito. Il problema era degli altri, Ariel Winter ha deciso di piacersi per se stessa, per il suo fidanzato Levi Meadene per essere felice. Con una corretta alimentazione e un programma ben strutturato di allenamento in palestra, ce l'ha fatta. Ora l'attrice è bellissima e ama fare sfoggio del suo corpo in qualunque occasione, sfruttando gli shorts che adora così tanto. Nel guardaroba di Ariel Winter, e sul suo profilo Instagram, non possono assolutamente mancare i pantaloncini cortissimi, meglio in denim, e i crop top mozzafiato. Nell'ultimo scatto. In cui l'attrice celebra, in visibilio, il trentesimo compleanno del fidanzato Levi Meaden, Ariel si mostra in tutta la sua bellezza nel classico outfit da battaglia che la contraddistingue, ormai, da tutte le altre. Ciglia finte, capello raccolto e la felicità che trasuda da quel dolce abbraccio. Sembra tutto perfetto, o quasi. Gli haters hanno trovato qualcosaltro a cui attaccarsi. Scagliandosi contro il suo modo di vestire. Ariel Winter, non lo faccio apposta. Negli ultimi tempi la voce degli haters che le intimano di mettersi dei vestiti veri si sta facendo sempre più assordante. È per questo che Ariel si difende, e lo fa a modo suo. Del resto, ha pur sempre 19 anni e tanta voglia di divertirsi, quando indosso i miei shorts non lo faccio per mettere in mostra il mio sedere. Semplicemente me li metto e viene fuori da solo, e finisco per non accorgermine mai. E' un po' imbarazzante, se posso dirlo. La sua dichiarazione, arrivata su Twitter, è frutto dell'esasperazione, non sono una prostituta solo perché indosso i pantaloncini e i crop top. Sono una ragazza normale e non cerco di strizzarmi dentro nessun capo. I miei shorts mi entrano alla perfezione e sto bene. Per favore, lasciate in pace le ragazze giovani. Stiamo solo cercando di vivere la nostra vita. La sua vita non è semplice, nel 2015, Ariel è diventata minorenne emancipata dopo aver denunciato la madre per abusi fisici e psicologici. In tutta risposta, lei ha rilasciato un'intervista piuttosto crudele, in cui esprime il suo disappunto perché è triste che una ragazza così giovane e promettente senta il bisogno di svestirsi così tanto anche quando non ce n'è bisogno. Grazie per la visione!